Ecco la guiglia arriva, ma vedo qualcuno alla guida, vedo, ma quello che guida lo conosco Vieni, 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 faccio un po', faccio i tuoi mister, venga, venga, è Walter Mazzari Che tu? Lasci le chievo di sotto mister, sono tre euro È proprio lui, Francesco smettere di fare il panneggiatore Eccoli qui, Walter Mazzari alla guida e naturalmente Christian Maggio, gotta né Un applauso, benvenuti!